Si intitola Materia, tra parentesi Prisma, il nuovo album di Marco Mengoni che chiude la triologia Materia. Il disco sarà disponibile dal 26 maggio 2023. Bentornati a Radio Puginion Air. Parliamo di questo nuovo album di Marco Mengoni, il terzo, intorno a questa trilogia che ha per principale titolo Materia. Vi ricordo soltanto che potrete ascoltarlo come ogni nuova uscita nella nostra playlist che trovate nella descrizione del video, aggiornata in tempo reale. Lì ci sono tutte le nuove uscite, cliccate e andate ad ascoltarle. E vi ricordo la nostra sfida, iniziata da poco. Nello scorso video avevamo proposto che se fossimo arrivati a 10.000 like avremmo fatto una mega sorpresa a tutti coloro che ci seguono e siete sempre di più. Vi ringrazio per esservi anche iscritti al nostro canale YouTube. E qualcuno ha detto subito sì ma 10.000 like alla fine sono pochi. Cosa ci vuole ad arrivare a 10.000 like? Allora ok ci stiamo, ci stiamo, nel senso aumentiamo la posta in gioco, arriviamo a 15.000 like. Dai, un pochino di più. Dai, proviamo così. 15.000 like. Quindi se su questo video ci saranno 15.000 like, per cui invito tutti i fan di Mengoni a darsi da fare anche per questo, perché ci sarà una mega sorpresona. Non sapete cosa siamo capaci di fare qui a Radiologia. Per cui se amate Marco Mengoni e se ci seguite la sfida è lanciata. 15.000 like. Ma parliamo del nuovo album di Mengoni, Materia Prisma. Il prisma come l'uomo ha la capacità di assorbire esperienze, filtrarle per poi analizzarle e poi restituirle scomposte in una miriade di colori. E così è questo album che a chiusura della trilogia ci permette di avere uno sguardo sulla realtà attraverso diversi punti di vista e prospettive, svelando e abbracciando in questo modo un mondo di sfumature nascoste ed uniche. Materia Prisma conclude così il viaggio musicale di Materia certificato triplo platino, un percorso in tre album che presenta tre anime differenti ma complementari. È iniziato questo percorso a dicembre 2021 con Materia Terra, progetto che parte dalle origini e dalle radici di Marco Mengoni e proseguito ad ottobre 2022 con Materia Pelle, disco in cui il cantautore presenta le sue ricerche musicali, le contaminazioni, i suoni provenienti da tutto il mondo. Come ben noto Marco Mengoni rappresenterà l'Italia alla finale dell'Eurovision Song Contest 2023 in programma il 13 maggio a Liverpool con il brano con cui ha vinto la 73esima edizione del Festival di Sanremo, un brano che continua ad essere tra i più amati dal pubblico dopo la vittoria. Trovate un video di una nostra puntata dove parliamo dell'Eurovision Song Contest 2023 per cui andate a cercarlo se siete curiosi di approfondire cosa accadrà. E quindi questo album uscirà davvero poco dopo la sua esibizione, vediamo se vincerà l'Italia, se vincerà Marco Mengoni quest'anno. A dieci anni tra l'altro dalla prima partecipazione all'Eurovision nel 2013 con L'Essenziale, brano certificato quattro volte disco di platino e tra l'altro un brano che ha vinto sempre Sanremo, pronto Marco a tornare su quel palco in una versione riarrangiata, quindi anche qui siamo curiosi di ascoltare come sarà questa versione di un brano che abbiamo ormai ascoltato tantissime volte, riarrangiata per questa occasione che è unica ed è il primo tassello dell'ultimo capitolo della trilogia discografica. Questo brano essenziale è scritto dallo stesso Mengoni con David Petrella e David Simonetta, la produzione del brano è di Edidi e Simonetta. Nella settimana di lancio il brano è anche entrato in 54 classifiche di iTunes, al primo posto in Italia, Svizzera, Slovenia e Lussemburgo e in top 10 in Belgio, Francia, Germania, Romania, Spagna e Slovacchia. La tracklist completa di Materia Prisma non è stata ancora svelata nella sua interezza, ma sappiamo che il nuovo disco di Marco Mengoni dovrebbe contenere 11 brani, incluso il successo due vite. All'appello mancano per ora tre brani che è la speranza di tutti i fans del cantautore potrebbero essere dei featuring tra cui magari una nuova hit estiva. Queste sono le tracce già annunciate e le leggiamo nell'ordine in cui dovrebbero essere nella tracklist definitiva. Due vite, poi secondo e terzo non dato, incenso la quarta traccia, la quinta un'altra storia, sesta a punto 5, due punti, non sono questo, settima traccia, in tempo, ottava, The Damned of the Earth, la nona traccia non la conosciamo, decima, Due Nuvole, undicesima ed ultima, Fiori d'orgoglio. Anche i preordini del disco sono già iniziati, sia in versione singola che in blocco con gli altri due album della trilogia, e quindi potete già preordinare questo nuovo album. È stato un piacere essere in vostra compagnia, vi ricordo che potrete ascoltare la nuova versione dei Due Vite, no scusate l'essenziale, sono rimasto dieci anni fa, di Due Vite, il brano che porterà all'Eurovision Marco Mengoni e poi ascolteremo in questa nuova versione nell'album che uscirà, e andate in questa nostra playlist in descrizione del video con tutte le nuove uscite, aggiornate in tempo reale. Vi invito di nuovo a mettere mi piace se non l'avete fatto, perché se arriviamo a 15.000 like, questa è la soglia che abbiamo stabilito stavolta, ragazzi, sorpresona. Allora, vi auguro una buona serata e vi do appuntamento alla prossima puntata di Radio Puggini On Air.